Ah dai, andiamo a prendere la roba in cantina. Su, ci sei? Sì, sì. Sperate, accendo la luce. Ok. Ah. Hai sentito il rumore? Sì, ho sentito qualcosa. Sperate, ci ne more. Sperate, accendo la luce. Ma. Vabbè, andiamo. Io sentito il rumore bruttissimo. Minchia. Aspetta che... Oh, non si accendono le luce. Non si accendono. Vabbè, dai. No. Cosa è successo? Non lo so. Oh mio Dio. Ah, fermate. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Cazzo. Ampriti, ampriti. Cos'era? Non lo so. Cosa facciamo adesso? Proviamo a guardare se riusciamo ad aprire la porta. Aspetta un attimo, non andare. Dobbiamo controllare. Aspetta, non c'è la mia scelta solo. Aspetta. Stammi vicino. Non c'è nessuno. Non c'è niente. Oh, oh, cazzo, cazzo. No! Oh no! Ahhhh! Ahhhh! Ahhhh!